In Italia ci sono più donne che uomini? Sì, al primo gennaio 2018 in Italia ci sono 60,5 milioni di persone e di queste il 51,3% è di sesso femminile. Questo però non è vero per tutte le fasce di età. Di fatti nascono più uomini che donne. Questa è una legge naturale che è valida per ogni tipo di popolazione in ogni epoca. In Italia, considerando la serie storica dei nati dal 1870 ad oggi, il rapporto di masconidità alla nascita è di circa 106%, ovvero nascono 106 uomini ogni 100 donne, con un minimo registrato del 104,8% ed un massimo del 107%. Questo squilibrio tra uomini e donne a favore degli uomini è valida fino ai 40 anni. Dopo questa età, la maggior propensione delle donne a vivere più a lungo fa sì che le donne siano di numero maggiore rispetto agli uomini. Per esempio, a 90 anni le donne sono il doppio degli uomini, a 95 anni le donne sono il tribo degli uomini, oltre i 100 anni le donne sono 5 volte gli uomini. In conclusione, è vero che ci sono più donne che uomini in Italia, ma questo solo dopo i 40 anni.